Bene ragazzi, ci troviamo qui per la seconda puntata, diciamo così, di queste conversazioni fatte da casa. Oggi parliamo della guerra fredda. Parliamo della guerra fredda e delle sue conseguenze, anche perché, vedete, quando ci sono delle grosse crisi come quella di oggi, questa della pandemia, non si parla più delle altre crisi che ci sono nel mondo, ma se vi ricordate poco più di un mese fa si parlava ancora di milioni di profughi, qui proprio vicino a casa nostra, nel Mediterraneo. La sola Turchia ospita 3 milioni e mezzo di siriani che sono scappati, altri centinaia di migliaia sono in Libano, altri quasi un milione sta in Giordania e così via. A migliaia e centinaia di migliaia tentano di scappare dal nord dell'Africa dove si sono rifugiati per arrivare da noi, per arrivare in Europa. Non se ne parla più perché abbiamo questo problema dell'epidemia, ma vedrete che appena avremo risolto il problema dell'epidemia immediatamente si tornerà a parlare di questo disastro umanitario e ci si comincerà a chiedere ma perché? Perché sta succedendo tutto questo? Perché la Siria è rimasta sconvolta da una guerra civile tremenda? Perché l'integralismo islamico in tutto il mondo fa tentati? Perché ci troviamo in questa terrificante situazione? Benissimo, per tentare di darci una spiegazione parliamo della matrice di tutte queste crisi, tutte le crisi che dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, dal 46 diciamo così, appena finita la guerra fino ad oggi, sono scoppiate a causa della guerra fredda. La guerra fredda è un po' la matrice di tutte quante le altre crisi. La guerra fredda è iniziata immediatamente dopo la seconda guerra mondiale. Io vi ho detto nelle elezioni passate che abbiamo avuto il novecento, l'abbiamo chiamato il secolo breve, perché tutto è iniziato con la prima guerra mondiale nel 1915 che ha generato i grandi totalitarismi del secolo, pensate al comunismo sovietico, al fascismo italiano, al nazismo tedesco e tutti i movimenti che si sono ispirati a questi sistemi politici, a queste ideologie. Ecco, la prima guerra mondiale ha generato tutto questo e come l'Europa, il mondo, ma soprattutto l'Europa in questo caso è uscita dalla prima guerra, abbiamo avuto un periodo tra le due guerre, cioè tra la prima e la seconda terribile con dittature spaventose eccetera e lo scoppio della seconda guerra mondiale direttamente causato da queste crisi. Dopo la seconda guerra mondiale, proprio per via di come il mondo è uscito fuori da questa guerra, è cominciata la guerra fredda. La guerra fredda ha proseguito fino alla caduta del muro di Berlino che poi vediamo nell'89 e purtroppo non si sono risolti i problemi, anzi i problemi sono peggiorati, se vogliamo, e si sono innescate tutte quelle tensioni, quei problemi che hanno portato poi alle crisi che avete visto alla televisione ultimamente, no? Guerre dappertutto, il Medio Oriente che è esploso, l'integralismo islamico e così via. Quindi capire come è andata la guerra fredda e quali sono state le cause e che cosa è successo è molto importante per capire quello che sta accadendo oggi. Allora, quando la seconda guerra mondiale era, diciamo, stava arrivando alla sua fine, avevamo le armate sovietiche che procedevano da est verso ovest, verso il cuore della Germania, dopo aver liberato l'enorme spazio russo-sovietico, stava entrando in Germania e si accingeva a occuparla completamente. Naturalmente da ovest verso est, analogamente, le armate anglo-americane supportate anche da qualche reparto francese sopravvissuto al disastro della Francia, le armate anglo-americane procedevano da ovest verso est. Ormai era chiaro che la Germania stava perdendo la guerra, la grande svolta è stata la battaglia di Stalingrado che dopo un anno di battaglia le armate naziste tedesche hanno cominciato a ritirarsi. I tedeschi lì hanno perso un'intera armata di 600.000 uomini e complessivamente all'interno dell'Unione Sovietica, durante la loro ritirata, durante il loro ripiegamento e davanti all'avanzare dell'armata rossa, i tedeschi hanno perso più di 3 milioni di uomini e più un'enorme quantità di materiali. I sovietici avanzavano forti di un'armata di 5 milioni di soldati e decine di migliaia di carri armati, aerei e cannoni. Avanzavano lentamente ma dal 43 al 45 avevano completato la liberazione della Russia e appunto stavano entrando in Germania. Ora, a questo punto come sarebbe andata a finire? In che punto? Dove? Su che linea si sarebbero incontrate le armate sovietiche con quelle angloamericane? E lì non si poteva lasciare il tutto al caso o ai semplici rapporti di forza, perché sennò sarebbe scoppiata immediatamente un'altra guerra. Questa volta battuti i nazisti la guerra sarebbe stata tra i sovietici e gli angloamericani, anche perché i due sistemi che in quel momento erano alleati davanti al nemico comune nazista, si muovevano su dei percorsi ideologici, politici, di stili di vita completamente opposti. Gli angloamericani avevano già dagli anni 40, si erano ritrovati elaborando quella che è stata chiamata la carta atlantica, dove si pensava che dopo la guerra tutti i popoli avrebbero dovuto avere l'autodeterminazione, tutti sarebbero stati liberi, ogni popolo avrebbe scelto la sua forma di governo e così via. Quindi un sistema liberale parlamentare. Mentre invece dall'altra parte, dalla parte sovietica, queste idee erano idee piccolo-borghese. Stalin che governava l'Unione Sovietica non aveva nessuna intenzione di abbracciare questo tipo di divisione del mondo e della politica. Quindi bisognava mettersi d'accordo prima. I rappresentanti di queste forze, Stalin per l'Unione Sovietica, Roosevelt per gli Stati Uniti e Churchill per gli inglesi, i britannici, si ritrovarono in una cittadina della Crimea proprio nel febbraio del 1945, quindi poco prima della fine della guerra e stabilirono le rispettive zone d'influenza. E anche dove si sarebbero dovuti incontrare le armate sovietiche con quelle angolo-americane, dopo aver seppellito sotto un diluvio di bombe, carri armati, cannoni e reparti militari, aver seppellito la Germania nazista. Vi ricordo che la Unione Sovietica fino a quel momento lì aveva avuto 20 milioni di morti a causa dell'invasione nazista, aveva perso 5 milioni di soldati e una quantità immensa di materiali. E dimostra una grandissima capacità di resistenza preparando quella offensiva che poi da Stalingrado in poi ha portato appunto alla liberazione del loro paese. Benissimo, si trovarono lì e stabilirono il luogo, la linea di incontro delle due armate. Le due armate come sapete si incontrarono poi in Germania. Da noi finì la guerra nell'aprile, 25 aprile, lo ricordiamo la guerra da noi, ma la Germania si avvesse tra il 7, l'8 e il 9 di maggio del 45. Benissimo, arrivate a quel punto lì, iniziarono subito a vedersi l'immensa diversità di concezione politica proprio dei due campi. Da una parte il campo sovietico e dall'altra parte il campo, chiamiamolo così, non più angolo americano, ma la zona di influenza sostanzialmente americana. Subito, una volta finita la guerra, ci fu in Europa un'immensa, diciamo così, non tanto di deportazione ma di spostamento di popolazioni. I tedeschi che abitavano nelle zone orientali della Germania, che venivano a essere occupate dalla Polonia, dal nuovo stato polacco che stava nascendo sulle macerie della distruzione a cui aveva sottoposto la guerra, i milioni quindi di tedeschi si spostarono e cominciarono ad affluire verso la parte orientale della nuova Germania. I confini della Germania furono spostati, la Prussia orientale venne completamente assorbita dalla Polonia, la parte orientale della Polonia fu invece inglobata nell'Unione Sovietica, come se la Polonia tutta quanta si fosse spostata verso l'Occidente. Questo spostamento causò, inutile nascondersero, centinaia di migliaia di morti, quasi tutti tedeschi, quasi tutti profughi, persone che non avevano affatto partecipato alla guerra, che erano popolazioni che abitavano la Prussia orientale e che dovettero con la forza spostarsi, abbandonare tutto nel giro di poco tempo. E questo tipo di trattamento a cui furono sottoposti i tedeschi, anche quelli innocenti, dalla guerra, mise subito in chiaro quali erano i metodi di azione politica e sociale, possiamo dire così, nel campo sovietico. Ora, a questo punto gli americani si trovavano... Ecco, il punto, prima di dire questo, la linea di divisione quindi tra la zona di influenza sovietica e la zona di influenza americana era il punto di incontro dei due eserciti che partiva dal mare del nord e, come disse Churchill in un famoso suo discorso in un'università americana, fino a Trieste. La linea fu chiamata da Churchill stesso, fu chiamata la cortina di ferro, dei Iron Curtain. Da una parte, cioè dalla parte nostra, diciamo così, occidentale, c'era un mondo che cercava di ricreare la democrazia. Dall'altra parte, disse Churchill in questo discorso, si stavano impiantando dei regimi autoritari, dittatoriali, e che negavano completamente l'autodeterminazione dei popoli. Non è per questo, disse Churchill, che abbiamo combattuto. Le tensioni tra i due campi divennero quindi sempre più forti e nel cuore dell'Europa divennero fortissimi. Pensate che la Germania fu, dunque cominciamo da lì, fu divisa in due zone di occupazione. La zona di occupazione sovietica, che era la parte orientale della Germania, e la zona di occupazione anglo-franco-americana. Le due zone di occupazione si fronteggiavano, perché ben presto la zona di occupazione sovietica divenne la Repubblica Democratica Tedesca. Democratico era un eufemismo, perché era una spietata dittatura di tipo comunista sovietica. Dall'altra parte invece si costruì la Repubblica Federale Tedesca con capitale Bonn, e che si doveva basare sui principi del liberalismo e della democrazia. Ecco, immediatamente dopo questa costituzione, diciamo così, di queste due entità tedesche, i due blocchi si fronteggiavano sempre più violento, sempre più duro, sempre più difficile diveniva la convivenza. Gli americani si resero conto che un'Europa completamente distrutta dalla guerra era un tappeto di macerie, quindi povera, miserabile ed affamata, non era di nessuna utilità per gli Stati Uniti, perché sarebbe stata facilissima preda dei sovietici. Gli americani immaginavano che dopo qualche anno di fame gli europei si sarebbero lasciati convincere o fatti conquistare da quelli che avevano in quel momento la forza, che erano in grado, se non altro, di aiutarli, tra virgolette, a ricostruirsi. Allora pensarono di anticipare le mosse sovietiche con un piano. Il piano Marshall, che funzionò dal 1947, 1947, fino al 51, il piano Marshall prevedeva un'immensa quantità di aiuti, sia finanziari che soprattutto di materiali, ai paesi distrutti dalla guerra, compresi quelli che erano stati nemici degli Stati Uniti, cioè l'Italia e la Germania, per potersi ricostruire. Il piano Marshall ha funzionato perché l'Europa nel giro di pochissimo tempo, pochissimo tempo significa un decennio, ha ricostruito ponti, strade, ferrovie, ospedali, scuole, tutto quello che era stato raso al suolo dalla guerra fu ricostruito e l'economia, diciamo così, europea ha cominciato a girare di nuovo. Evidentemente, questa Europa ricostruita in questo modo doveva essere il principale partner commerciale e anche alleato politico e militare degli Stati Uniti. Per, diciamo così, savoir-faire, gli americani offersero gli stessi aiuti anche all'Europa orientale, ma l'Unione Sovietica si oppose durissimamente, anzi, ritenne questa proposta una provocazione. L'Europa orientale era sotto la zona di influenza sovietica e gli americani non avrebbero potuto minimamente interferire con quello che succedeva lì. Che la situazione stesse diventando sempre più difficile lo si vide subito, perché nel 1947, già nel 1947, ci fu un intervento, anzi nel 1946, ci fu un intervento armato inglese per reprimere il partito comunista greco, la Grecia faceva parte della zona invece di influenza americana, che tentava la presa del potere subito dopo la guerra. La repressione fu durissima, fu una vera e propria guerra civile, con migliaia e migliaia di morti, Stalin però rispettò, diciamo così, il patto che la Grecia fosse nell'influenza americana, tant'è vero che non mandò aiuti alla Grecia, ai comunisti greci, e questo tentativo insurrezionale fallì. Intanto però gli americani mandarono, sempre nel 1946, nel 1947, mandarono la propria flotta sullo stato di Dardanelli per aiutare la Turchia a conservare la sovranità sul passaggio tra il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Sul Mar Nero si affacciava l'Unione Sovietica. I Dardanelli, secondo gli americani, dovevano essere controllati da un paese amico. Visto che Stalin premeva moltissimo sulla Turchia per poter controllare i Dardanelli, gli americani mandarono lì le proprie portaerei per fare capire che i Dardanelli non si sarebbero toccati. Anche lì la tensione divenne molto, ma molto pressante, molto, molto forte. Stalin reagì. Reagì con un blocco, con il blocco di Berlino. Ora, vi avevo detto prima che la Germania fu divisa in due parti, la Germania orientale, a regime comunista, e la Germania occidentale, chiamata Repubblica Federale Tedesca. La città di Berlino, che era all'interno della Germania orientale, a sua volta fu divisa in due settori. Il settore orientale, controllato dai sovietici, e il settore occidentale, controllato dagli Stati Uniti, dagli inglesi e dai francesi. C'erano proprio le zone di occupazione. Tra il settore occidentale e il settore orientale, passava una linea di demarcazione, filo spinato, eccetera, controllato dai militari di entrambe le parti. Da una parte c'erano i carri armati sovietici, dalla parte di qua c'erano i carri armati americani. Se guardate su Google, e guardate Divisione di Berlino, 1950, per dire, troverete delle fotografie, oppure scrivete anche muro di Berlino, anche se sarà costruito dopo, però fa un, fotograficamente, vi fa vedere anche quello che c'era prima. E vedete questo schieramento di militari. Bastava un niente, bastava un incidente, bastava un colpo di fucile sparato per errore, che sarebbe successo un cataclisma. Beh, Stalin cosa ha fatto? Ha fatto il blocco di Berlino, cioè Berlino-Ovest fu circondato dalle truppe sovietiche in modo tale che nulla e nessuno potesse entrare nella Berlino-Ovest e nulla e nessuno ne potesse uscire. Gli occidentali, cioè gli anglo-americani, risposero a un ponte aereo. Ci fu un ponte aereo, cioè aerei da trasporto, che partivano dalle basi americane nella Germania occidentale e dall'Inghilterra, che trasportavano tutto quello che serviva a Berlino, che ne so, dalla carta igienica alla carne, dall'acqua alle medicine, tutto quello che serviva per la vita e per rifornire negozi di una città veniva importato in questo modo. Pensate che atterrava un aereo ogni due minuti, un aereo del ponte, molti ne caddero e man mano che ogni volta che uno di questi aerei si avvicinava per atterrare nell'aeroporto di Berlino-Ovest, la contraerea sovietica la seguiva. Fu un momento terribile, perché in qualunque istante poteva esserci quell'incidente che avrebbe scatenato l'inferno. Però Berlino-Ovest resse al punto che Stalin, subito dopo, diciamo il blocco, è rimasto dal luglio del 48 o agosto del 48 fino al maggio del 49. E si consolidò quindi, si consolidarono i rispettivi governi, cioè nella Germania Berlino-Ovest divenne una, pur essendo così lontana dal territorio della Germania occidentale, divenne parte integrante della Repubblica Federale Tedesca con un corridoio che la collegava, attraversava la Germania orientale e la collegava con la Germania occidentale. Mentre Berlino-Est venne a fare parte integrante della Germania comunista, della Germania est, tant'è vero che la capitale della Germania est venne insediata a Pankow, che era un quartiere periferico di Berlino-Oest. Questa prova di forza aveva fatto capire a che punto erano i rapporti tra i due blocchi. Cosa è successo? Che ci si è resi conto che la guerra poteva scoppiare. ci voleva quindi in quel caso sarebbe stata la terza guerra mondiale ci voleva quindi uno strumento di difesa. Gli americani proposero ai loro alleati europei la costituzione di un'alleanza militare. l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, North Atlantic Treaty Organization, la Nato. La Nato nacque nel 49, nell'aprile del 49, e l'Italia l'Italia aderì. L'Italia aderì alla Nato e vuole esserne parte integrante. Gli americani ben contenti di questo posero le loro basi militari sul nostro territorio e noi fummo il nostro esercito eccetera il nostro sistema di difesa fu completamente integrato con quello della Nato e quindi del Nord Atlantico. Nord Atlantico significa sia la parte nostra dell'Europea dell'Atlantico che quella americana e canadese. Intanto come ho detto le tensioni tra i due blocchi aumentavano e gli Stati Uniti furono addirittura preda di una sorta di isteria anticomunista. Si vedevano comunisti dappertutto al punto che c'era un senatore americano chiamato McCarthy che propose una nel 1950 propose una commissione la commissione McCarthy appunto che doveva servire per scovare i comunisti nascosti in America una coppia di stati americani i famosi coniugi Rosenberg furono condannati alla sedia elettrica e giustiziati proprio nel 1953 proprio accusati di essere delle spie sovietiche non fu mai provata questa accusa intellettuali legisti scrittori artisti politici vennero messi sotto accusa dalla commissione McCarthy e condannati allontanati dalla vita politica eccetera fin tanto che lo stesso senato americano si accorse che forse McCarthy era un fanatico era un pazzoide un maniaco e la commissione McCarthy fu sciolta però riuscì addirittura riuscì a combinare dei guai tremendi pensate che il grande regista americano John Ford quello di Ombre Rosse dei grandi primi western americani fu condannato dalla commissione McCarthy per comunismo perché aveva fatto un film tratto dal romanzo di Steinbeck finché io vi consiglio di vedere lo trovate su youtube o su altri siti che parlava del cioè che era la versione cinematografica del romanzo di Steinbeck Furore parlava della grande crisi del 29 e dell'emigrazione dei poveracci contadini dell'Oklahoma che andavano verso la California morendo per strada facendo la fame lavorando per pochi centesimi nei campi di raccolta della frutta cose tremende Steinbeck raccontò questa tragedia nel suo libro Ford lo riportò nel suo film The Grapes of Wrath si chiamava il titolo originale sia del libro che del film noi l'abbiamo tradotto come furore e per questo Ford fu accusato di essere un comunista no? gli americani come sapete erano dotati della bomba atomica fecero finire la guerra con il Giappone proprio sganciando due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki il Giappone si arrese fu Truman il successore di Roosevelt che morì di malattia a ordinare lo sgancio della bomba però il fatto che gli Stati Uniti possedessero questa bomba li rendeva diciamo oggettivamente più forti dell'Unione Sovietica che quindi non ha lesinato sforzi per dotarsi di una bomba atomica anche lei cosa che fece Stalin comunque morì nel 1953 e il il congresso del partito comunista sovietico che doveva scegliere il successore fu Khrushchev il successore di Stalin denunciò in questo congresso era il ventesimo congresso denunciò i crimini di Stalin Stalin non era più il padre della patria l'eroe che aveva liberato la patria dai nazisti ma era uno spietato dittatore che aveva mandato milioni e milioni di americani scusate di sovietici a morire nei gulag cioè i campi di concentramento sovietico ricordate che un gulag i gulag erano sistemati soprattutto in Siberia finire in un gulag voleva dire morire in due o tre anni se uno aveva una condanna a dieci anni il campo di lavoro forzato in Siberia voleva dire condanna a morte tra gli stenti ecco queste cose vennero denunciate dal ventesimo congresso e Khrushchev promise una liberalizzazione del sistema sovietico ecco questo aveva dato moltissime speranze all'interno dei paesi che erano stati occupati dall'armata rossa che aveva diciamo così respinto i tedeschi fino a Berlino parlo della Polonia della Cecoslovacchia allora era un unico paese unito oggi è Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca allora era Cecoslovacchia e poi c'era l'Ungheria la Romania la Bulgaria la Jugoslavia l'Albania insomma tutta l'Europa orientale ecco moltissimi si sono fatti illusioni ah il regime si allenta sarà possibile anche da noi la democrazia e succede che proprio a Budapest a Budapest nell'ottobre del 56 gli abitanti si ribellarono partirono dalle fabbriche grandi proteste contro il regime e chiesero a gran voce riforme economiche elezioni e libertà i sovietici capirono che questo tentativo di liberalizzazione avrebbe fatto sfasciare il loro sistema e occuparono l'Ungheria con i carri armati facendo una repressione crudelissima uccidendo migliaia e migliaia di insorti di manifestanti io vi consiglierei di leggere un libro che è una specie di romanzo diario dell'ex capo della polizia di Budapest il quale non amava assolutamente i sovietici e cercava di barcamenarsi tra i sovietici che volevano che la polizia ungherese li aiutasse a reprimere le manifestazioni e la popolazione che invece voleva liberarsi dei sovietici c'è un bellissimo libro appunto il nome dell'autore non lo ricordo è estremamente complicato in ungherese però il titolo è abbiamo solo 100 fucili compagno colonnello era la risposta che un poliziotto ha dato il capo di una stazione di polizia di Budapest ha dato al capo della polizia quando lui gli ha telefonato e gli ha detto resistete contro i russi questi non ci devono schiacciare chi sono questi difendiamo la popolazione e questo poveretto questo comandante locale gli disse ma colonnello avevo solo 100 fucili qualcosa devo fare lui poi fu catturato dai sovietici condannato a morte riuscì però a uscire dopo 20 anni di galera quando è caduto il muro di Berlino è stato liberato poi andò negli Stati Uniti e scrisse questo diario romanzato molto ma molto bello vi consiglio di leggere perché capite il clima io ho anche un ricordo personale ricordo una volta che mia madre così chiedisse a mio padre ma scusami ma perché gli americani non intervengono ad aiutare gli ungheresi poveretti che si stanno battendo per la libertà e mio padre scandalizzato io disse ma sei impazzita ma voglio che scopri un'altra guerra questo vi fa capire cos'era la guerra fredda ciascuno nella propria zona di influenza doveva restare nella propria zona di influenza e non interferire con quella dell'altro quindi qualunque aiuto l'occidente avesse dato ai poveri ungheresi che si stavano ribellando sarebbe stato un atto di guerra e non dimentichiamoci che quando ci fu la crisi di Budapest nel 1956 la guerra mondiale era finita da poco poco più di dieci anni e quindi i miei genitori si ricordavano che cos'era si ricordavano le case distrutte le bombe che cadevano i morti eccetera quindi la rivolta generò però una tensione nel cuore dell'Europa ancora più forte di quella che era prima questa tensione arrivò allo spasimo pensate fino al 61 quando i sovietici fecero costruire intorno a Berlino Ovest quindi nel cuore della Germania Est però in quest'isola diciamo di democrazia che era Berlino Ovest fessero costruire un muro un muro che avrebbe completamente isolato che avrebbe quindi evitato quello che stava succedendo cioè che perso ogni speranza di democrazia molti berlinesi dell'Est scappavano in Ovest perché chi lo faceva aveva poi il diritto di arrivare di andare a Germania Federale avere la cittadinanza tedesco federale e rifarsi una vita per evitare questo stilicidio di persone poi moltissimi tecnici ingegneri insegnanti persone qualificate che scappavano volevano più intellettuali che scappavano fecero costruire questo muro famosissima è la foto di un mentre costruivano il muro c'era un poliziotto che si chiamava del corpo dei Vopos cioè Volkspolizei polizia del popolo che avrebbe dovuto sparare contro quelli che cercavano di scappare di là mentre costruivano il muro lui non l'ha fatto quando ha capito che i suoi superiori lo avrebbero sgabato ha buttato il fucile ed è scappato dall'altra parte c'era proprio in fronte a lui un giornalista tedesco occidentale che lo ha fotografato e c'è questa bellissima foto di questo soldato che scavalca il filo spinato buttando il fucile e quindi scegliendo la libertà sapendo che non avendo sparato contro i berlinesi che cercavano di scappare di là sarebbe stato lui a sua volta fucilato e quindi il muro di Berlino naturalmente ha creato una situazione incredibile io vi invito veramente a cercare su google muro di Berlino e vedere le foto di quel periodo mentre lo costruivano mentre la gente delle case che confinavano tra la zona est e ovest che si buttava dalla finestra e sotto i pompieri con le lenzuola che li prendevano al volo persone che non avevano la possibilità di buttarsi perché avevano erano troppo lontani che lanciavano i figli c'è la foto di un bambino estratto dalla culla e buttato giù e preso al volo dai pompieri cose folli dopo la costruzione del muro scappare dall'altra parte era pericolosissimo ci provarono in centinaia e in centinaia morirono facendo dei tunnel sotto in mille modi cercando di scavalcarlo con degli aglianti nascondendosi dentro macchine di funzionari che passavano da una parte all'altra furono presi e uccisi a centinaia ci sono tutte le foto con le croci e la data della morte appiccicato dove oggi c'è solo il percorso la traccia per terra di dove c'era prima il muro che cade come sapete nell'89 quindi fu una tragedia tremenda che ha aumentato se ancora si poteva di più la terribile tensione che c'era tra i due blocchi io vi sto parlando in questo momento degli episodi della guerra fredda quelli più salienti in Europa ma ce ne furono anche nel mondo e adesso poi li vediamo quindi il muro di Berlino siamo nel 61 la tensione quindi continua e si arriva al 68 nel 68 tutto il mondo occidentale era percorso da manifestazioni scioperi degli studenti un nuovo spirito libertario che si stava impossessando soprattutto dei giovani me lo ricordo che proprio nel 68 mi sono iscritto all'università era un mondo nuovo che si voleva costruire eccetera e gli echi di queste di queste di queste di queste speranze arrivavano anche al di là del muro e il primo posto dove furono raccotti è stato proprio Praga Praga avvenne quel fenomeno che è stato chiamato la primavera di Praga cioè addirittura pensate il partito comunista cecoslovacco quindi filo sovietico sembrava fino a quel momento lì decise dopo avere diciamo così eletto un nuovo segretario che si chiamava Alexander Dubček aveva deciso di cambiare tutto il sistema doveva cambiare bisognava dal comunismo di stretta osservanza sovietica bisognava arrivare a un socialismo dal volto umano così lo definì Dubček e cominciarono delle riforme economiche e politiche tremeni e togliere la censura sui giornali permettere la formazione di partiti e fare riforme economiche di tipo liberale a quel punto i sovietici dissero si dissero se questi ce la fanno fare una roba del genere è finita perché tutto l'oriente europeo uno dopo l'altro i vari partiti comunisti mi mollano e quindi richiamarono Dubček gli dissero che le cose dovevano cambiare che doveva ritornare indietro dalle riforme Dubček si rifiutò fu arrestato e la Cecoslovacchia fu invasa dai carri armati sovietici che entrarono a Praga alle 4 del mattino cercate su google la primavera di Praga e vedete che cosa vuol dire che cosa vuol dire essere invaso dai carri armati sovietici giganti di acciaio giganti di acciaio che entrano nella tua città spazzando tutto la popolazione si era riversata nelle strade non ha fatto resistenza violenta perché avevano ancora il ricordo di pochi anni prima Budapest gli stessi fautori della primavera di Praga chiese alla popolazione di non reagire con la violenza perché sarebbe stata una strage immensa erano pronti a fare un massacro i sovietici quindi il partito fu epurato misero dirigenti filosovietici ortodossi diciamo così venne avviata quello che con un scarso senso del pudore i sovietici hanno chiamato la normalizzazione di Praga Praga fu normalizzata il nuovo capo del partito da Dubček divenne Husak già il nome sembra una fucilata e tutto tornò come prigest fu chiamata la primavera di Praga pensate che l'anno dopo il gennaio del 69 uno studente Jan Palach si è dato fuoco proprio nella piazza centrale è una piazza piazza San Venceslao una piazza storica dove i praghesi quando fanno le manifestazioni si ritrovano sempre una piazza stretta e lunghissima e lui proprio nel cuore di questa piazza si è dato fuoco e pochi giorni dopo un suo compagno lui studiava filosofia nell'università che c'era lì vicino che adesso è intestata a lui e qui in occidente fece un effetto incredibile poi per gli studenti universitari come ero io l'idea che un ragazzo si desse fuoco a vent'anni perché il mondo non si occupava più del suo paese eccetera ci commosse si fecero manifestazioni in suo favore si accusò di fascismo i sovietici eccetera però le cose non cambiò la guerra fredda impediva qualunque tipo di solidarietà che non fosse a parole perché se no si sarebbe trasformata in guerra calda quindi la situazione nel cuore dell'Europa rimase così rimase così fino fino all'89 la caduta del muro di Berlino che poi vediamo velocemente com'è andata però non è soltanto in Europa che anzi in Europa la guerra fredda rimase proprio fredda nel senso che non si sparò neanche un colpo di fucile tranne quelli che i volpo sparavano contro la gente che cercava di scappare e scavalcare il muro ci fu invece la guerra fredda che in molti episodi dove i due blocchi confinavano diciamo così si trasformò in guerra calda mai americani e sovietici si sono confrontati con le armi direttamente ma sempre per interposta persona se c'erano gli soldati americani sul campo c'erano i comunisti dall'altra parte ma non soldati sovietici i sovietici fornivano armi munizioni aiuto economico tecnici eccetera ma i loro militari non li misero in campo per fortuna perché al primo militare sovietico ucciso dagli americani o viceversa la guerra avrebbe preso un ben altro andamento ecco la prima crisi calda fu la guerra di Corea la guerra di Corea di cui ancora oggi abbiamo le vestigia pensate a quel pazzoide dittatore della Nord Corea Kim Jong-un ecco la guerra di Corea scoppiò perché dunque nel 49 la Cina con cui confinava la Corea divenne comunista no divenne comunista perché cacciati i giapponesi i giapponesi persero la guerra vennero cacciati e ci fu un confronto tra i nazionalisti cinesi guidati da uno che si chiama Chiang Kai-shek capo del Kuomintang si chiamava il partito nazionalista una specie di partito fascista fascistoide però più che fascista era duramente nazionalista cinese e dall'altra parte il partito comunista guidato da Mao Zedong questi due si allearono per un breve periodo per combattere contro i giapponesi poi quando i giapponesi sconfitti si ritirarono hanno cominciato a fare la guerra tra di loro vinsero i comunisti che preso il potere in Cina ora quindi nacque nel 49 la Repubblica Popolare Cinese ecco la Corea era stata divisa in due parti un po' come la Germania perché le armate sovietiche combattendo contro i giapponesi avevano occupato metà della penisola coreana vi ricordo che la Corea era stata occupata dei giapponesi prima della guerra faceva parte dell'impero giapponese una specie di colonia da cui i giapponesi si riferivano di schiavi comprese le donne le famose donne che venivano rapite e portate come accompagnatrici dell'esercito giapponese e violentate i giapponesi mi hanno chiesto scusa di questa cosa qui hanno mai fatto un risarcimento chiudo la parentesi quindi le armate sovietiche arrivarono fino all'altezza del 38esimo parallelo e le armate americane da sud verso nord arrivarono a incontrarsi ci fu un accordo per evitare lo scontro e quindi diciamo su quella linea di demarcazione sembrava che le cose fossero stabilizzate invece e invece a un certo punto la Corea del nord guidata da colui che aveva guidato la resistenza antigiapponese il nonno di quello che c'è adesso che si chiamava Kim Il Sung Kim Il Sung invase la Corea del sud quindi la Corea comunista invase la Corea meridionale gli americani intervennero avevano nell'area il loro esercito il generale MacArthur che era quello che aveva battuto i giapponesi nel Pacifico sbarcò in Corea e riconquistò la Corea anzi ricacciò indietro i norcoreani fino al confine con la Cina a quel punto intervennero sostenuti dai sovietici intervennero i comunisti cinesi ecco la cosa incredibile è che il generale MacArthur avrebbe voluto usare le armi nucleari per cacciare i cinesi diciamo che il presidente Truman terrorizzato che questa cosa provocasse una terza guerra mondiale a pochi anni dalla seconda rimosse MacArthur lo richiamò in patria e comunque la guerra di Corea in tutto comunque costato circa 90.000 morti americani e poche volte si dice dei 4 milioni di morti coreani perché la guerra fu di una violenza estrema bombardamenti eccetera furono sganciati nella Corea quasi dagli americani tante bombe quasi quanto in tutta la seconda guerra mondiale questo per dirvi che cosa fu la guerra di Corea finì con il ristabilimento del confine ancora oggi è il confine più controllato del mondo ci sono un milione di soldati comunisti nordcoreani a nord del 38esimo parallelo e un'enorme armata americana e sud coreana a sud del 38esimo parallelo tra l'altro per curiosità se vi interessa il 38esimo parallelo se lo seguite è arrivato fino a Palermo è quello che passa su Palermo ricordate che in Palermo c'era una scuola nautica che si chiamava proprio il 38esimo parallelo e vabbè la guerra di Corea quindi vide il confronto militare tra i comunisti diciamo così e i capitalisti scontro militare che finì pensate mai con un trattato di pace c'è ancora adesso in vigore l'armistizio anche se Trump è andato a parlare con Kim Il-sung scusate Kim Jong-un il nipote di Kim Il-sung però non hanno fatto un trattato di pace hanno fatto semplicemente degli accordi perché la Corea non cercasse di dotarsi di armi nucleari e così via va bene quindi la guerra di Corea è finita così con un equilibrio instabile pensate che subito dopo pochi anni dopo nel 1961 dopo che Cuba divenne a regime comunista perché ci fu l'insurrezione di Fidel Castro e di suoi compagni che rovesciarono il regime corrotto di certo Fulgencio Battista sostenuto dagli americani prese il potere un regime di tipo comunista e l'unione sovietica ne approfittano subito per dire senti se vuoi che gli americani non ti strozzino cercarono già gli americani di invadere Cuba con un fallimento di una missione chiamata lo sbarco nella baia dei porci che fallì furono ributtati a mare gli americani o meglio gli anticomunisti cubani che gli americani avevano organizzato per invadere Cuba furono ributtati a mare la popolazione appoggiaò Fidel Castro il regime però i sovietici fecero capire a Cuba che se non avessero ricevuto agli aiuti dai sovietici gli americani avrebbero ben presto rovesciato il regime Fidel Castro dovette accettare accettò e i sovietici in cambio dell'aiuto economico e dell'acquisto di tutta la produzione di zucchero da canna che i cubani facevano e senza il quale non vivevano imposero chiesero e ottennero che i cubani adesso erano permesso di installare dei missili nucleari su Cuba puntati sugli Stati Uniti quando gli Stati Uniti se ne accorsero impose il blocco contro Cuba intorno a Cuba la flotta da guerra americana si mise intorno a Cuba la flotta sovietica stava arrivando portando le testate nucleari da montare sui missili e Kennedy presidente gli Stati Uniti disse a Khrushchev il capo dell'unione sovietica guarda che noi non ci spostiamo e se voi cercate di forzare il blocco vi affondiamo le navi noi invece continuiamo ti tireremo dritto e i due la tensione arrivò forse è stato il momento in cui più nella storia ci si è avvicinati allo scopo della terza guerra mondiale fino a quasi a toccarsi le navi sovietiche e quelle americane schierate davanti a Cuba io mi ricordo questa scena ero un ragazzino avevo 12 anni facevo le medie mi ricordo questa scena fatta vedere al telegiornale in cui si vedevano le navi sovietiche che deviavano facevano un'ampia curva e rinunciarono a forzare il blocco la guerra fu evitata per un pelo d'accordo? se volete una descrizione perfetta romanzata ma fatta bene di questo episodio cercate il film in inglese il titolo ma il film è in italiano lo trovate su youtube 13 days no 13th tredicesimo giorno 13th days fate un po' di tentativi perché? perché il momento culmine della crisi fu proprio quello fu un 13 giorni e già i principali esponenti dell'amministrazione americana erano già sesi nei bunker antiatomici e così avevano fatto i capi dell'unione sovietica perché si aspettavano lo scambio nucleare che avrebbe distrutto il mondo noi non saremmo qui a parlarne se qualcuno avesse premuto il bottone per fortuna Khrushchev decise all'ultimo momento di rinunciare all'installazione dei missili questa crisi è passata con proprio la crisi dei missili di Cuba 1961 fu un momento terribile anche se per fortuna non si sparò un colpo dove invece si sparò e tantissimo fu in Vietnam perché il Vietnam anche lui era stato diviso in due parti quando quando finisce la guerra il Vietnam era una colonia francese come tutta l'Indocina se cercate il film Indocina con una meravigliosa attrice francese che fa Catherine Catherine de Neuve che fa la possidente francese in Vietnam vedete cosa è stato e che cosa fu il dominio francese da quelle parti nel momento in cui i francesi sconfitti dai tedeschi si dovessero ritirare dall'Indocina appena finita la guerra i comunisti vietnamiti diciamo comandati da un signore che si chiamava Ho Chi Minh uno che aveva anche studiato in Italia oltre che in Francia i comunisti vietnamiti uniti in una lega chiamata Lega del Vietnam Viet Minh una lega sostanzialmente nazionalista in cui non c'erano solo loro dichiarano l'indipendenza del Vietnam i francesi mandarono i loro soldati per impedirlo i vietnamiti combatterono con tutte le loro forze sconfissero i francesi una battaglia chiamata battaglia di Dien Bien Phu con Dien Bien Phu sembrava che tutto il Vietnam dovesse liberarsi invece ci fu una minaccia di intervento occidentale in appoggio dei francesi ci fu una trattativa a Ginevra e il Vietnam venne diviso tra Vietnam del Nord come vista capitale Hanoi e Vietnam del Sud con capitale Saigon l'equilibrio rimase per un po' fin tanto che nel 66 ci fu un incidente nel golfo del Tonkin si chiamava proprio il golfo lì vicino e una nave militare una nave della guerra americana fu attaccata da delle moto vedete nord vietnamite questo fu il caso Sbelli come si dice la guerra scoppiò gli americani sbarcarono in Vietnam e cominciò una lunghissima guerra che è durata fino al 1975 durissima che causò la morte di circa 59.000 60.000 marines americani e 3 milioni e 3 milioni di marines che andarono in Vietnam con i turni tornarono negli Stati Uniti e 3 milioni di morti i vietnamiti sotto un diluvio di tonnellate di bombe i famosi bombardieri B-52 che martellavano il nord Vietnam in continuazione nel 68 molti studenti americani un movimento pacifista americano fece manifestazioni in tutto il paese per chiedere la fine della guerra il presidente Nixon mandò la guardia nazionale a reprimere questi movimenti queste manifestazioni uccisero molta gente ci furono violenze in tutto il paese mi ricordo che qui da noi abbiamo fatto una manifestazione davanti all'ambasciata americana per ricordare l'uccisione di sei studenti della Cambridge americana no di Berkeley dell'Università di Berkeley americana e avevamo delle grandi gigantografie di questi studenti appena ammazzati dalla guardia nazionale davanti all'ambasciata americana che in quel periodo stava in Piazza della Repubblica ci fu poi la dispersione della manifestazione i carabinieri manganellarono un po' tutti e ci rimandarono a casa però comunque manifestazioni che c'erano in Italia ma c'erano a Parigi c'erano in Germania c'erano in tutto il mondo per protestare contro questa guerra gli americani quindi a un certo punto capendo che non avrebbero mai potuta vincere si sono ritirati nel 75 hanno abbandonato il Vietnam e le forze comuniste nord vietnamiti occuparono tutto il paese occuparono tutto il paese come fecero d'altronde i comunisti cambogiani con la Cambogia i comunisti laotiani con il Laos e così via praticamente tutta l'Indocina meno la Thailandia divenne comunista e questo non fece non cambiò molto la vita in Occidente e dimostrò che la dottrina Truman era assurda cioè Truman aveva detto dovunque i comunisti si fanno avanti per prendere il potere noi dobbiamo essere lì per impedirglielo se no se prendono il potere da una parte poi con una specie di effetto domino conquisteranno tutto l'Occidente non si è verificato per niente tutte queste guerre sono state scatenate proprio per niente quindi sostanzialmente la guerra finisce nel 75 con un diplomatico molto intelligente americano dice facciamo come al solito dichiariamo vittoria e ci ritiriamo e non se ne parla più adesso il Vietnam è comunista ed è anche abbastanza amico degli Stati Uniti un ex presidente americano è andato in visita lì Clinton gli americani hanno dato molti aiuti al Vietnam per anche per scusarsi di quello che hanno fatto pensate che ci sono intere foreste del Vietnam incenerite e mai più ricresciute perché gli hanno buttato sopra la diossina basta un chilo di diossina per inquinare e rendere inabitabile chilometri e chilometri quadrati di territorio loro buttarono tonnellate vetrificarono intere foreste che adesso sono esposte al pubblico chi vuole andarla a vedere come monumento alla stupidità della guerra ecco anche lì il Vietnam è stato un momento caldo anche se bisogna dire questo calore non si è trasformato in una tempesta di fuoco perché i sovietici e gli americani non si confrontarono lì direttamente il Vietnam era nell'orbita sovietica ma i sovietici non mandarono i loro soldati quindi dopo il 75 ci fu ci fu un ripensamento da parte dei sovietici i sovietici si erano conto che continuare così li avrebbe portati alla rovina perché li avrebbe obbligati a degli investimenti militari talmente grandi talmente intensi che la loro economia stava per scoppiare stava per esplodere non erano più in grado di reggere e allora ci ripensarono molto e elessero qualche anno dopo dopo altre crisi di cui non parliamo perché furono meno eclatanti una cosa sul Vietnam se volete avere un film documentario veramente bello scegliete Dear America Dear cioè Cara America è stato fatto la colonna la voce fuori campo sono le lettere che i soldati americani mandavano a casa Dear America è in italiano cioè sia la versione italiana che la versione in inglese cercate Dear America e vedete tutte le immagini che vedete sono state filmate dai corrispondenti di guerra è incredibile quello che è successo lì e se non lo si vede non lo si può credere cosa è stato magari vedete prima un pezzo di Indocina di quel film che vedete e poi guardate quello naturalmente se siete poi se aprono le librerie andate anche in librerie a comprare qualche libro comunque vi assicuro che in rete trovate testimonianze eccetera su tutto questo quindi abbiamo visto la guerra fredda come è stata in Europa e come è andata in giro per il mondo ora vi volevo concludere però con una un qualcosa che direttamente con la guerra fredda sembra che non c'entri mentre invece è legata anche a questo ed è legata sia alla guerra fredda che al movimento anticoloniale che in quel momento si stava che dopo la seconda guerra mondiale si stava espandendo in tutto il mondo in tutto il mondo cioè i paesi che erano stati parte dell'impero francese dell'impero inglese si rimbellavano gli inglesi l'hanno capito subito hanno piegato in quattro le loro bandiere hanno fatto il saluto militare e se ne sono tornati a casa pensate un po' cosa è successo in India con Gandhi eccetera l'hanno arrestato un paio di volte perché quando hanno capito che la situazione non reggeva se ne sono andati cosa che invece non hanno fatto i francesi un episodio l'avete visto in Vietnam no? in Algeria poi c'è stato un altro episodio di resistenza dei francesi contro il movimento anticoloniale algerino c'è un bel film La battaglia di Algeri guardatevelo perché è stato girato da uno dei nostri migliori registi Giro Pontecorvo e vedete quante lacrime sangue è costata questa lotta per cacciare via i francesi tra l'altro quasi contemporaneamente quando sono stati cacciati dal Vietnam nel 56 tra il 54 e il 56 e nel 61 62 dall'Algeria benissimo si tratta della situazione stavo parlando della situazione nel Medio Oriente tutti quei milioni di profughi di cui abbiamo parlato vengono da lì ma cos'è successo? ma perché? ma perché lì ci sono guerre continue? ma che cosa sta succedendo? che cosa è successo? che cosa è innescato tutto questo? il conflitto arabo-israeliano il conflitto tra Israele e i palestinesi voi l'avrete sentito magari qualche volta accennare ma non sapete cos'è ecco benissimo diciamolo in quattro parole allora fino dunque dal 1500 la Palestina era stata una regione diciamo così dell'impero ottomano l'impero ottomano partiva da tutti i Balcani occupava ovviamente tutta l'Anatolia dove c'è la Turchia tutto il Medio Oriente e arriva fino al Nord Africa tutto il Nord Africa quando finisce la prima prima guerra mondiale nel 18 la Turchia che aveva l'impero ottomano che aveva fatto la cretinata di allearsi con l'Austria e con l'impero austriaco e con l'impero tedesco perse la guerra e si è disfatto tutti quei paesi che vedete nella carta geografica sui Balcani Medio Oriente e Nord Africa sono tutti nati da quel da quel disastro militare ottomano e quella zona lì della Palestina venne messa su quello che è stato chiamato il mandato britannico cioè si disse agli inglesi di governare loro quella regione gli inglesi si sono messi d'accordo con i francesi hanno fatto una commissione hanno diciamo tracciato i confini di tutta quella quei paesi che ci sono ancora adesso infatti se notate se guardate una carta geografica sono tutte le linee rette loro hanno preso il matita e righello e hanno detto questo paese va a te questa regione va a te gli hanno dato i nomi ad esempio la Siria il Libano passava ai francesi mentre invece non so l'Iraq l'intera Palestina e altro passò agli inglesi il mandato britannico quindi gli inglesi si governavano subito dopo la guerra ora alla fine dell'Ottocento ci fu un intellettuale politico artista viennese che si chiamava Herzl Theodor Herzl il quale era un ebreo disse ma gli ebrei da duemila anni sono perseguitati e notate bene che non c'erano ancora stati i campi di sterminio nazisti perché gli ebrei non hanno il diritto di avere la loro patria e avercela proprio là dove c'era la patria dei nostri padri dove dice la Bibbia la Palestina e invitava ha creato un movimento chiamato movimento sionista che invitava gli ebrei da tutto il mondo ad andare lì e così migliaia di ebrei cominciarono a spostarsi verso la Palestina e fu un movimento inizialmente visto anche con molta simpatia dagli arabi palestinesi quelli che abitavano lì abituati ai pellegrinaggi e c'è lì ci andavano cristiani ci andavano ebrei ci andavano musulmani ci andavano persone di tutti i paesi che andavano lì a pregare a fare pellegrinaggi erano abituati a questo flusso di religiosi e questo flusso quindi aumentò diventò parecchio abbastanza consistente però sopportabile diciamo così finché un giorno un diciamo il ministro degli esteri ecco diciamo così il ministro degli esteri inglese si chiama Balfour gli inglesi avevano il mandato lì disse ma sì ma che male c'è va anche bene è giusto che gli ebrei abbiano il loro stato e quindi che gli ebrei possano tranquillamente andare lì quindi l'afflusso di ebrei da tutto il mondo soprattutto dall'Europa orientale ma anche da altre parti del mondo e anche dai paesi arabi si incrementò e divenne abbastanza forte quindi gli ebrei in Palestina si gli ebrei in Palestina aumentano di numero e cominciano le prime tensioni d'altro canto erano pressioni e tensioni che erano sopportabili scoppia però la seconda guerra mondiale gli ebrei subiscono quello che tutti voi sapete campi di sterminio 6 milioni di ebrei massacrati in Europa eccetera e tra l'altro ci fu il gran mufti di Gerusalemme cioè la massima autorità musulmana di quella parte della Palestina che fece addirittura una dichiarazione di appoggio a Hitler gli stringse la mano disse che la politica che gli tedeschi stavano facendo nei riguardi degli ebrei era giusta positiva eccetera e quindi questo fece aumentare da morire anche il disprezzo se vogliamo tra gli ebrei che stavano lì e verso questa parte del mondo musulmano comunque ci fu il massacro ci fu il massacro dell'olocausto i campi di sterminio eccetera quando la guerra finisce siamo in 45 comincia un flusso di ebrei inarrestabili da tutta Europa verso la Palestina perché gli ebrei che arrivavano da tutto il mondo una volta che hanno visto lo sterminio hanno detto non c'è proprio più speranza ce ne dobbiamo andare pensate che tutti gli ebrei che scappavano dall'Europa questo io prima non lo sapevo andavano alla Spezia che dagli ebrei è chiamata la porta di Sion perché di lì si imbarcavano su tutti i tipi di navi che riuscivano ad affittare o che facevano rotta verso la Palestina e cercavano di andare in Palestina se voi guardate il film Exodus trovate proprio un racconto di un episodio cioè una nave chiamata Exodus piena di ebrei che minacciarono di farsi esplodere e di morire tutti di suicidarsi tutti se non li avessero lasciati partire per la Palestina questa nave per poter ottenere questo permesso ha dovuto cioè i passeggeri di questa nave hanno dovuto uscire da un campo di concentramento inglese che gli inglesi avevano costruito a Cipro dove facevano affluire tutti gli ebrei che riuscivano a intercettare gli ebrei gli inglesi non volevano che gli ebrei andassero in Palestina e quindi li fermavano e li mandavano lì e loro minacciandosi di il suicidio collettivo riuscivano ad andare in Palestina lì trovarono una situazione terribile perché era una guerriglia permanente c'erano ebrei da una parte e inglesi appoggiati dagli arabi locali dall'altra la guerriglia ebraica portata avanti da un'organizzazione ebraica che si chiamava Haganah soprattutto ma ce n'erano anche altre era durissima pensate che quelli della Haganah fecero esplodere anche un un albergo il King il King King Hotel di Amman pieno di soldati inglesi che morirono centinaia l'Inghilterra capì che non si poteva cioè la guerra era appena finita gli inglesi dove si leccavano le ferite stavano smobilitando i loro soldati dappertutto andarono via dall'India ma chi glielo faceva fare di stare lì se ne andarono anche quelli voltarono i tacchi saluto militare e se ne tornarono a casa siamo nel 48 a quel punto l'ONU vedendo la situazione terribile che si stava venendo a creare lì dichiarò che gli riconobbe la formazione di uno stato ebraico in Palestina lo stato di Israele benissimo gli ebrei festeggiarono da morire questa cosa però non avevano neanche finito di festeggiare anzi non avevano neanche iniziato di festeggiare che i paesi arabi che confinavano con questo nuovo stato cioè soprattutto esclusi il Libano soprattutto la Siria la Giordania e l'Egitto dichiararono guerra al nuovo stato e lo invasero il nuovo stato di Israele che loro pensavano di battere facilmente perché era come se fosse un neonato si comportò benissimo al punto che riuscirono a respingere gli eserciti gli eserciti invasori fu la prima guerra arabo-israeliana in 48 i palestinesi che ancora abitavano nella zona cominciarono un esodo tremendo furono centinaia di migliaia di persone che andarono a vivere nei campi profughi confinati con Israele quindi nel sud del Libano parte in Siria la maggioranza andò in Giordania in una zona della Giordania che si chiamava Cisgiordania quindi al di là del fiume Giordano e in Egitto in quella zona di Egitto che si chiamava Gaza quella che oggi chiamano la striscia di Gaza e andarono lì e si diedero delle organizzazioni guerrigliere militari per poter per poter tornare a casa quindi per poter abbattere il nuovo stato di Israele nasce l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina il cui capo era Yasser Arafat ora il aspetta che ho perso il filo ah ecco sì Yasser Arafat benissimo nel 52 nel 52 l'Egitto che quindi aveva un carico enorme perché aveva fatto una guerra che era persa aveva un mare di profughi palestinesi l'Egitto compie un regime in quanto i militari egiziani giudicando inadatto il re Farouk il re Farouk era un pagliaccio messo su dagli inglesi per governare l'Egitto al loro posto venne rovesciato e i militari guidati da un signore che si chiamava Nasser Abdel Nasser Nasser che aveva come ideologia una sorta di una legia fortemente nazionalista ma una sorta di socialismo arabo cambiò completamente strada rispetto a Farouk il regime di Farouk era odiato dalla popolazione corrotto eccetera Nasser promise grandi riforme sociali grandi riforme economiche e sostanzialmente la rinascita dell'Egitto notate bene che la stessa cosa qualche tempo dopo ho capito in Iraq con la presa di potere di un partito laico che si chiamava il partito Bat guidato poi successivamente da Saddam Hussein quindi il nuovo Egitto per potersi finanziare tutte queste riforme che voleva fare ha nazionalizzato il canale di Suez il canale di Suez scavato dagli inglesi e dai francesi negli anni 60 dell'800 era ancora in mano franco-britannica e Nasser ha detto ma no ma questa è casa nostra e l'hanno nazionalizzato la nazionalizzazione del canale di Suez provocò subito la reazione franco-inglese a cui si accodarono il nuovo stato di Israele e ci fu una seconda guerra arabo-israeliana la guerra arabo-israeliana fu tremenda perché a parte che costò una quantità immensa di vittime però stava per finire con una completa disfatta dell'Egitto sotto la pressione dei militari degli eserciti franco-britannici oltre che israeliani e provocò qui ecco per cosa c'entra la guerra fredda provocò l'intervento dei sovietici e i sovietici dissero l'Egitto vuole stare sotto l'influenza sovietica noi gli abbiamo promesso investimenti abbiamo promesso ad esempio la costruzione della diga di Aswan abbiamo promesso che lo lo aiutiamo dal punto di vista degli armamenti eccetera dovete lasciare stare l'Egitto se no interveniamo noi direttamente gli americani terrorizzati che ci fosse uno scontro diretto tra sovietici e truppe franco-inglesi che erano tra l'altro aderenti alla NATO l'organizzazione del patto atlantico quindi soldati sotto comando americano peraltro intervennero sui governi britannico e francese per far ritirare i soldati quindi la questione finì lì però Nasser ottenne un successone incredibile in tutto l'Egitto manifestazioni di sostegno eccetera e di odio verso l'Occidente che aveva appoggiato questa diciamo questa incredibile intromissione nei affari interni proprio colonialista in un momento in cui il colonialismo stava arretrando sotto i colpi dei movimenti anticoloniali tra l'altro appoggiati anche questi molto spesso dall'Unione Sovietica i franco-inglesi fanno un processo del genere Nasser quindi diventa una sorta di eroe ora questa cosa però provoca una presa di posizione anche da parte di tutti gli altri paesi alibi che dicono ma allora è giunto il momento di riarmarci veramente e di fare un come si può dire di risolvere una volta e per tutte i problemi israeliani cioè ricacciare lo stato di Israele a mare distruggerlo nel 67 quindi l'Egitto blocca quello che si chiamava il gofo di Acaba provocando immediatamente la reazione israeliana perché tutta la parte di Israele che guardava verso il mare rosso veniva bloccata in questo modo Israele attacca l'Egitto la Siria e la Giordania contemporaneamente distrugge tutta l'aviazione egiziana a terra prima ancora che riuscisse a sollevarsi in volo occupò le alture del Golan cioè quella regione della Siria che guarda verso Israele e occupa tutta la Cisgiordania dove abbiamo visto prima milioni di palestinesi si erano rifugiati ora la cosa provoca una crisi terrificante perché Israele si trova a occupare territori che erano diventati il rifugio dei palestinesi che erano scappati dopo la costituzione stato di Israele e quindi la tensione nell'area aumentò tantissimo le organizzazioni militari palestinesi cominciarono quindi una guerra di guerriglia tremenda con attentati incursioni eccetera a cui Israele rispondeva sempre con una violenza estrema con delle rappresaglie durissime ogni attentato palestinese Israele reagiva con una violenza estrema la diciamo questa sconfitta dell'Egitto provocò prima le dimissioni di Nasser a furor di popolo Nasser fu rimesso al suo posto però morì poco dopo e al suo posto venne nominato Anwar el-Sadat Sadat lo ricordiamo come Sadat Sadat come si può dire continuò l'avvicinamento dell'Egitto incrementò l'avvicinamento dell'Egitto all'Unione Sovietica ottenne molti anni dall'Unione Sovietica e nel 73 cioè pochi anni dopo insieme alla Siria questa volta non la Giordania rimasta fuori insieme alla Siria ha attaccato di nuovo Israele l'hanno preso di sorpresa si chiama guerra del Kipur il Kipur è una festa ebraica una delle principali è come se noi si trovassimo improvvisamente in guerra natale quando siamo tutti a tavola col panettone mentre stiamo tagliando il panettone scoppia una guerra infatti in un primo momento gli israeliani vengono presi di sorpresa e l'Egitto riconquista parte di quella penisola del Sinai che era stata conquistata da Israele pochi anni prima con la guerra dei sei giorni del 67 Israele però si riprende presto ricaccia i siriani al di là del Golan e facendo con una famosa battaglia di carri armati nel deserto del Sinai sconfigge l'esercito egiziano lo circonda e sta per annientarlo a questo punto interviene di nuovo l'Unione Sovietica in appoggio dell'Egitto gli americani sono stati costretti a dire a Israele di ritirarsi perché se no i sovietici avevano promesso di sbarcare direttamente nel Sinai e di cacciarli loro ovviamente Israele che dipende dipendeva dagli armamenti dai finanziamenti eccetera dagli americani ubbidiscono e si ritirano però a questo punto ecco prima però succede questo molti paesi arabi vista questa sconfitta un'ulteriore ennesima sconfitta umiliante decidono di fare il blocco delle vendite di petrolio all'Europa e all'America l'embargo petrolifero e di colpo a noi ci vengono a mancare i fornimenti di petrolio che tra l'altro quintuplica di prezzo quintuplica mi ricordo una cosa incredibile prima compravi un litro di benzina con 180 lire passò a 400 poi a 500 poi a 800 poi a 1000 pazzè 1200 erano le lire degli anni 70 e quindi più o meno al valore dell'euro di adesso e insomma ci siamo trovati così a dover organizzare addirittura pensate alle 10 di sera si doveva spegnere tutto le luci delle strade le luci dei negozi tutto si doveva fermare la domenica da mezzanotte a mezzanotte quindi non è così né per finta di oggi dalle 10 del mattino alle 6 del pomeriggio da mezzanotte tra sabato e la domenica a mezzanotte domenica e lunedì proibito ogni forma di movimento tranne i mezzi pubblici tutto doveva essere bloccato lo shock petrolifero l'hanno chiamato ha provocato una crisi economica in occidente terrificante e però voglio dire siamo anche riusciti a superarlo ecco qui stavo dicendo l'Egitto cioè Sadat a un certo punto ha detto ma ragazzi noi stiamo in guerra con Israele da sempre abbiamo fatto la guerra del 48 del 56 del 67 poi ora abbiamo speso miliardi di dollari abbiamo perso centinaia di migliaia di soldati per cosa? gli altri presi arabi cosa hanno fatto? a parte la Siria ma cosa hanno fatto? ci hanno dato quattro soldi soprattutto quelli del petrolio i venditori di petrolio quattro soldi e guardavano alla finestra ci incoraggiavano e nessuno ci ha dato una mano ma chi ce lo fa fare? e allora Sadat cosa ha fatto? con la mediazione americana ha contattato Israele e ha fatto un accordo gli accordi di Camp David credo che si fossero dell'anno dopo nel 74 Israele ha restituito all'Egitto tutto il Sinai gli ha restituito sostanzialmente tutto quello che gli ha dato tutto quello che volevano bastava che gli egiziani stessero fuori dalla guerra è stato per Israele una cosa bellissima perché non era più blindata circondata a soli nemici l'Egitto il più grande paese arabo quello più ascoltato anche più prestigioso eccetera si tira fuori e diventa non dico amico di Israele ma comunque pensate che c'erano turisti israeliani che andavano a vedere le piramidi cosa che non era neanche pensabile quindi le cose migliorano purtroppo perché gli estremisti erano sempre dietro l'angolo Sadat venne subito ammazzato l'anno successivo da un attentato mi ricordo che ho visto la televisione c'era un corteo militare c'era una manifestazione militare c'era Sadat e il suo governo schierati davanti si ferma un camion saltano giù dei militari e lo uccidono diventa presidente il suo vice che si chiama Mubarak poi è rimasto fino a quando l'hanno buttato giù nel primavere alve nel 2011 dopo 30 anni comunque il Sadat viene ammazzato in questo modo e la tensione aumenta sempre di più le organizzazioni palestinesi organizzano sempre più attentati fin tanto che Israele nell'82 non ne poteva più di ricevere razzi missili incursioni da parte dei palestinesi che arrivavano dal Libano dai campi profughi palestinesi in Libano invade il Libano nell'82 invade il Libano e fa un macello fa un macello perché conquista tutto il sud del Libano schiacciando completamente tutti i campi profughi palestinesi che incontra distrugge l'esercito libanese e si rende complice di un orrore sostanzialmente succede questo l'esercito israeliano circonda i due campi profughi più importanti si chiamano Sabra e Shatila li circonda non entra dentro i campi profughi ma fa entrare i guerriglieri cristiano maroniti che erano dei libanesi di religione cristiana maronita di tipo orientale i quali si abbandonano a un massacro spaventoso in quei campi profughi non c'erano uomini perché erano tutti a combattere contro israeli nel sud del Libano c'erano solo vecchi donne e bambini furono massacrati tutti ci sono dei filmati in cui si vedono le montagne di cadaveri se volete una testimonianza di quello che è successo guardate questo film Walzer con Bashir Walzer con Bashir il presidente del Libano in quel periodo B.A.S.H.I.R Walzer è un film di animazione fatto benissimo in cui c'era un soldato israeliano che tra l'altro era il regista di quel film quando era giovane ha partecipato a quella guerra e ha perso la memoria e voleva sapere cos'era successo e perché aveva perso la memoria e va a interrogare i suoi commilitori ciascuno di loro gli dà un pezzo della guerra che ha visto insieme a lui la cosa va avanti finché si arriva a Sabri Shatila e lì gli si disvela la verità perché ha perso la memoria e lì da animazione si passa a figure reali al filmati e non vi dico che cosa ho visto in quel filmato c'è proprio gli ultimi minuti del film sono senza parole senza musica senza niente senti solo il ronzio delle mosche che sono sui cadaveri ci sono scene di bambini con la bambola stretta eccetera guardate è una cosa tremenda ovviamente questo episodio aumenta il tasso di violenza e di lotta dei palestinesi contro Israele a questo punto però si sviluppano i famosi movimenti radicali islamici perché gli islamici dicono l'Egitto è governato da laici militari non sono musulmani non sono islamici tutti i Al-Fatah e tutti l'OLP tutte le organizzazioni palestinesi sono laiche questi hanno fallito questi hanno fallito perché sono degli apostati perché non seguono la vera morale islamica sono più corrotti degli occidentali l'unico modo perché si possa riottenere la libertà è combattere secondo leggi da di Allah e quindi nascono i movimenti integralisti islamici che prendono sempre più piede e che cominciano a fare attentati un po' in tutto il mondo come abbiamo visto vi ricordate gli attentati e quindi prendono sostanzialmente il posto delle altre organizzazioni palestinesi che diventano sempre più minoritarie allora a un certo punto nel 93 il primo ministro israeliano un vecchio militare laburista però non fascistoide come di solito sono ma laburista della sinistra israeliana a Oslo incontra il capo dell'OLP l'organizzazione per la liberazione della palestina e fanno un accordo di pace si guadagnano il 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 primo per la pace siamo nel 93 si stringono la mano addirittura senza poi lavarsela dopo si sono un po' più stretti la mano è finito tutto niente è finito la prima fase e incomincia una molto peggiore Rabin viene subito ammazzato da un estremista israeliano accusandolo di tradimento Arafat si ritira dopo poco tempo a vita privata e il movimento palestinese praticamente passa di mano non più le organizzazioni dell'OLP o LP organizzazioni palestina ma le organizzazioni estremiste islamiche ad esempio la principale lì in palestina è Hamas che addirittura governa tutta la striscia di Gaza dove ci sono più di un milione e mezzo di profili palestinesi nella Cisgiordania occupata da Israele una parte per gli accordi di Oslo viene concessa in autogestione all'OLP diciamo all'autorità autonoma palestinese ma non cambiano le cose gli attentati le violenze aumentano sempre di più aumentano sempre di più finché si arriva alla costituzione di quel gruppo che si chiama ISI lo stato islamico il quale comincia una guerriglia anti cioè pro islamica ma non solo contro Israele anzi quasi non spara un colpo contro Israele ma contro i dirigenti arabi che loro reputano complici degli occidentali e quindi in Siria la guerra civile spaventosa e poi anche in Iraq una parte dell'Iraq viene conquistata da questi e così via all'interno dell'Iraq poi ci sono altri scontri tra musulmani sciiti e musulmani sunniti la confusione regna sempre più grande sotto il cielo e si è arrivati fino all'altro giorno quando milioni di profughi scappano scappano da quella zona per cercare di sottrarsi a quell'orrore vengono fermati in Turchia dove il governo turco li gestisce in campi profughi dopo aver ricevuto 3 miliardi di euro di finanziamento da parte dell'Europa purché non li faccia arrivare da noi la situazione quindi è questa adesso non se ne parla più per il banale motivo che c'è l'epidemia e allora il 99% del telegiornale se notate e dei giornali parlano di questo non si parla più di profughi non si parla più di niente è sparito dalle prime pagine però la realtà è quella lì resta ancora lì e non può che peggiorare vedrete che quando finisce l'epidemia e finalmente potremo rifare la vita di prima e informarci come facevamo prima vedrete che la situazione lì nel frattempo si è ancora più incancrenita e ci troveremo poi di fronte a una grossa gatta da pelare noi europei va bene ora io finisco qui perché ho parlato per un'ora e mezza per carità e quindi ragazzi mi raccomando ricordatevi che tutti questi argomenti li potete approfondire mi raccomando avrete molto spesso con il nuovo esame di maturità che dovrete fare una la storia soprattutto di oggi del novecento è una via di fuga incredibile e quindi prendete il libro cercate questi argomenti e studiateveli e io non posso che augurarvi in bocca al lupo ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti